Il 15. Congresso dell'immunologia internazionale avrà avuto a Milano a fine agosto, dal 22 al 27 del anno, 2013. Il Congresso avvira tutti i aspetti dell'immunità, dal più basale al più tradizionale e alle applicazioni cliniche di questa disciplina dinamica. Vi aspettiamo circa 5.000 persone, magari più, e tutti i diversi fasi dell'immunità saranno esplorzati. Facciamo un'assessibilità del stato dell'arte e, spero, planare avanti e cominciare da qui per sviluppare nuovi concetti e idee innovativi per fortale sforzare l'immunità. Il Congresso sarà molto intenso. Dopo sei giorni, avremo esplorzare i diversi aspetti dell'immunità dell'immunità. Per questo abbiamo esplorzato sei tratti che si trattano in parallelo ogni giorno. Quattro di quelli cover i aspetti basi dell'immunità e, uno di questi, la patogenesi dell'immunità e l'altro, i aspetti traslacionali e le applicazioni cliniche dei principi basi che abbiamo appena imparato come capire con un esplorio durante i anni. Tra i 5.000 persone che attendono in un'esplorio, ci saranno molte lectori con 50 lectori principali e tre di quelli saranno serviti dal Nobel Prize laureato per l'immunologia delle edizioni precedenti. Siamo davvero fortunati di averla rappresentando il grande progresso che è fatto per l'immunologia e quanto è percepito dal pubblico generale. Penso che in termini del Nobel Prize laureato l'immunologia è davvero la disciplina scientifica e di tutte le scienze biomédiche nessuno può migliorare circa 20 Nobel Prize laureati negli ultimi 100 anni.